Federico Pistono è, come dicono gli americani, il nostro futurist, colui che ha una visione. Ma le macchine arriveranno mai a sostituire l'uomo? In tutto quello che fai devi fare affidamento su cosa succede iterativamente nel tempo. È una skill imparare a utilizzare i soldi in maniera efficace e questa skill si impara come? Partendo da zero. Qua in Italia le start-up danno loro il permesso di avere successo le grandi istituzioni, le grandi banche, le grandi aziende. Se non hai permesso di questi grandi, tu non cresci. Negli Stati Uniti, in particolare a San Francisco, le start-up che crescono velocemente raggiungono centinaia di milioni e miliardi di valuations è perché non hanno chiesto il permesso a nessuno. Chiedi al tuo team di stare con te in questa avventura e ringraziali di condividere questo percorso con te per tutto il lavoro che stanno facendo, per la volontà, per la passione, per l'intelligenza, per la determinazione. di stare con te a condividere questo grande sogno che è il tuo. Questo è quello che fa un imprenditore. Ciao Maverix, benvenuti nel nostro percorso. ! I speak about his work to CEOs around the world. periodicamente, e se non più presto il nostro percorso. Grazie.